Francesco, lei ti sentì cosa c'ha detto a televisione, lei ti sentì bandenta, bandenta, ma non ci sarebbero voluti ancora milioni di anni prima che accadesse una cosa del genere? La verità è che queste notizie o ipotesi arriveranno anche in paese, ma qui le ipotesi bastano a creare dei problemi, tanti problemi. E tu cosa farai? Luisa, cosa c'è da fare? Luisa, cosa c'è da fare? Luisa, cosa c'è da fare? Ah, guarda, una volta che si riposò, durmò, ma fumo niente. Certo che è possibile. Ma per me è stato di debattere. Magari chiudiamo il comune, mandiamo le persone a casa. Guarda che qui la gente si è sempre sposata, non sanno neanche cosa vuol dire convivere. La sua figlia, Anna, ha convivuto come le bestie. No, qui la gente è cattiva, perché lo sai pure tutto quello che ci tirano dietro. Ma che parla a noi, sei giù, tu ti dà anche, è una nuova regola, è una vergogna, oltre che non sei tale. Sei sicuro di non far marci vedere qualcosa? Se dentro faccio una strage. Dicono che l'amore sia cieco, ma forse siamo solo noi che non vogliamo vedere. Ma poi, l'hai mai vista un preve che sta come un delinquente? Un assassino? Lui ha qualcosa dentro, qualcosa che sa di morte. Ma che cosa dobbiamo fare, Francesco? News dal mondo di Hollywood. Jude Law sostituirà Michael Fassbender nel nuovo progetto cinematografico Genius. Il film è tratto dal libro di A. Scott Berg, Max Perkins, editor of Genius. Storia che si basa sull'amicizia tra l'autore Thomas Wolff e il suo editore di lunga data, Max Perkins. Jude Law si unisce al cast che vede presenti Colin Firth e Nicole Kidman. Questa era la notizia di oggi. E voi non dimenticate, mi raccomando, di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook, Anteprima Cinema. Al prossimo video, ciao a tutti!